Buongiorno e bentrovati a questa nuova edizione della Rassegna Stampa di lunedì 14 marzo. Iniziamo quest'oggi dal Gazzettino di Belluno. In prima pagina il titolo principale è dedicato ancora una volta alla guerra. Raid russi, massacro al confine dell'Unione Europea. Centrata a base militare vicino alla Polonia, 35 vittime, feriti olandesi, mosca, eliminati mercenari stranieri. Gli USA difenderemo i territori NATO, giornalista americano ucciso, insediati i primi sindaci, filo Putin. E anche la mattinata di oggi si è aperta con la notizia di nuovi bombardamenti che hanno centrato anche un palazzo proprio della capitale Kiev. Dopo questa sintesi di prima pagina il tema della guerra viene affrontato diffusamente nella prima parte del Gazzettino. Guerra vicino al confine dell'Unione Europea, base militare bombardata, raid a 25 chilometri dal territorio NATO. Il blitz russo causa 35 morti e 134 feriti. La struttura ospitava militari olandesi, mosca, abbiamo ucciso i mercenari. Violata la zona franca dove si trovano i diplomatici. L'ambasciatore Zazo, 400 italiani, ancora bloccati. Combattimenti a Irpe, nei paraggi di Kiev, la capitale ancora circondata dai russi. Allarme per l'utilizzo di armi chimiche. Colpita anche un'altra scuola vicino a Mikolad. Il Pentagono difenderemo tutti gli alleati. Il buato degli aerei a notte fonda. La fuga e il fumo degli attacchi. Il risveglio da incubo di Leopoli. La corsa disperata delle ambulanze e in ospedale non ci sono più letti. Ore di emergenze. Oltre alle sirene, gli avvisi per la fuga arrivano via SMS. La città si prepara a difendersi. Possono anche bombardarci. Ma lo spirito degli ucraini resisterà. Questa una testimonianza raccolta dal Gazzettino. Sindaci rapiti e arresti. La pace dei russi a sud. Dopo il sequestro di Melitopol, sparisce anche il primo cittadino. Un altro primo cittadino. Il piano di russificazione delle regioni occupate. Ma a Kherson scatta la rivolta. L'esercito di Mosca ha imposto una collaborazionista che ordina la gente ad adattiamoci al nuovo sistema. Anche questa è una strategia assunta quella appunto di rapire i primi cittadini e sostituirli. Cucine scorte medicinali. Nella città che non esiste più, la vita si sposta nel tunnel. A Kharkiv organizzata nei sotterranei una rete di sopravvivenza. Ogni giorno preparati e consegnati 1500 pasti ad anziani e malati. E poi c'è la notizia dell'uccisione di un giornalista americano. Spari su chi scappa dall'inferno di Kiev. Ucciso un giornalista. L'auto del reporter statunitense è colpita dalle raffiche esplose dai militari russi. Il racconto del collega è rimasto ferito. Stavamo solo filmando i profughi. Queste le notizie dal fronte così riassunte dal gazzettino di Belluno che poi passa a affrontare altri aspetti della vicenda. Per esempio le mosse della diplomazia. Si gioca la carta, usa Cina e Putin chiede armi a Xi. A Roma l'inviato speciale di Pechino incontra il consigliere della sicurezza USA. Oggi nuovo faccia a faccia Mosca Kiev. Ma ci sarà soltanto una videoconferenza. E poi anche vengono affrontati gli effetti sulla economia della guerra in atto. La speculazione sul grano, la farina costa meno, ma salgono pane e pasta. Anche dopo una settimana di prezzi in calo, prodotti rincarati fino a 13 volte. Faro sulle quotazioni dei carburanti. Si muovono antitrust, procure e finanza. Andiamo avanti sulle pagine del gazzettino per arrivare a quelle dedicate alla provincia di Belluno che si aprono con una notizia sulla chiusura delle Paralimpiadi. Olimpiadi adesso tocca a noi. Chiuse anche le Paralimpiadi a Pechino, il testimone passa all'Italia. Il sindaco di Cortina torna con la bandiera del CIO. Ghedina è il plurimedagliato di San Vito, René De Silvestro, sullo stesso volo. Zaia coinvolgeremo territori e persone. Saremo all'altezza. E la fotonotizia della prima pagina è dedicata proprio a René De Silvestro che nell'ultima giornata delle Paralimpiadi è riuscito ad ottenere una medaglia di bronzo nello slalom speciale. Tema questo delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi qui dedicato l'approfondimento delle pagine 2 e 3 del gazzettino di Belluno. La bandiera in Italia adesso tocca a noi. Oggi il rientro da Pechino del sindaco Ghedina con la delegazione. Ieri altra grande impresa di René De Silvestro stasera è in piazza con le sue due medaglie. Il campione con un bronzo nello slalom speciale ha chiuso in bellezza a Pechino e sarà festeggiato nella sua San Vito. E poi vediamo altre notizie proposte dal gazzettino di Belluno. Bosco delle Castagne a Belluno, 77 anni fa la strage, valori vivi ancora oggi. Le parole del vescovo Renato Marangoni e il parallelismo con la guerra in Ucraina ieri nella ricorrenza dell'Eccidio. Rasera Berna, presidente del Consiglio Comunale di Belluno. Russia, tollerata dai leader la mancanza di democrazia perché fa comodo. FIAB, la Federazione degli Amici della Bicicletta, sulle ciclabili del Feltrino. Nuovo tratto, quando i lavori, la prima uscita stagionale degli Amici della Bicicletta, ieri 30 in gita per 40 chilometri. Gli appassionati si sono scontrati con percorsi frammentati e pericoli. Alfredo De Bastiani, attendiamo da tempo l'allungamento della Feltre Piedavena. Mancano meno di 500 metri. Cade per 50 metri per soccorrere l'amica. È grave. Il doppio incidente ieri sul Monte Grappa, nel territorio di Seremo. Covid e guerra. Pianlonghi chiude. Giù la serranda fino a data da destinarsi per bar e ristorante sul Nevegal, ma gli spazi sportivi alle porte del Nevegal appunto restano a disposizione. Il titolare Enrico De Bona è una pausa di riflessione. Il caro Bolletta e le scasse presenze non ci danno altra scelta. Il commento, occasione persa per il Nevegal in bilico fra un passato d'oro e un futuro incerto. A piedi a Roma per la beatificazione di Papa Luciani. L'iniziativa organizzata dalla diocesi di Belluno Feltre attraverso i luoghi dove Luciani trascorse il suo periodo prima della elezione a Papa. La partenza è fissata per il 31 agosto e l'arrivo è previsto per la cerimonia di proclamazione il 4 settembre prossimo. Addio a Claudio Tabacchi, crebbe generazioni di maestri di sci. Morto a 68 anni, Tabacchi di Borca di Cadore fu l'allenatore del campione Varettoni e di molti altri. Il prefetto Savastano in Val d'Ansiei, in municipio ad Auronzo e poi sulle piste a Col Agudo. Inizia poi l'ampia pagina sportiva che il giornale lunedì presenta abitualmente. Sezione sportiva che si apre con una copertina. Aspettando il futuro, Barp vince. Anche nella 10 km, ieri a Sappada e lì a Barp di Tricchiana, senza rivali nello sci di fondo, unico rammarico, l'Opa Cup è finita in mani francesi. Vittozzi sempre discontinua. Questo per quanto riguarda il biathlon. Dal masso podio sfiorato. La gordina mi sento felice per la prima volta in questa stagione. In questo caso si tratta di snowboard. E poi comincia con il calcio, la sezione sportiva e in particolare con la notizia della sconfitta della Dolomiti Bellunese nel campionato di Serie D ieri in quel di Campodarsego. Il titolo scelto dal ghezzettino, i play-off si allontanano. Ma andiamo al Corriere delle Alpi. In prima pagina, anche in questo caso, il titolo principale è dedicato alla guerra. Missili al confine polacco colpita una base militare. Altra giornata di violenze. Tra le vittime anche un videooperatore americano ucciso a nord di Kiev. Ordigni lanciati da Mosca sul centro di addestramento. 35 morti oggi riprendono i negoziati. E la fotonotizia è dedicata alla cerimonia di chiusura delle Paralimpiadi a Pechino. Super de Silvestro scivola in gara ma tiene il podio. Si pari su Pechino il testimone a Milano Cortina. Le prime pagine sono dedicate alle cronache della guerra in Ucraina. Attacco ai confini della Nato. 30 missili russi sulla base di Yavoriv a 30 km dal confine polacco. Il Corriere delle Alpi propone anche una cartina che indica che disegna la situazione delle forze sul terreno per far comprendere un po' lo stato di avanzamento della guerra. Morte di un reporter è una pagina dedicata alla scomparsa di Brent Renault colpito da una raffica mentre entrava in auto a Irpin. Ferito il collega. Per quanto riguarda la diplomazia, l'America pressing su Pechino, non aiutate l'invasore. L'avvertimento di Washington, sanzioni dall'Occidente su larga scala. Sullivan a Roma con il consigliere cinese, ma Mosca, Xi, ci dia aiuti militari. Quindi anche la Russia si rivolge alla Cina per un aiuto. Per quanto riguarda i riflessi sull'economia, caro benzina è protesta, si fermano 70.000 tir. Nonostante il no allo sciopero del garante il ministro Patuanelli, le forniture sono garantite. Timori per le consegne degli alimentari. Domani vertice al ministero per gli aiuti. Non ci sono motivi per assaltare i supermercati. La nostra forza produttiva regge questa una rassicurazione del ministro Patuanelli. PNR è politica agricola da rinegoziare. Ne è convinto Zaia, il presidente del Veneto, che si appella a Draghi. Su energia e alimentare dobbiamo diventare autonomi. Bisogna rivedere gli accordi con l'Unione Europea. E poi c'è la foto della mamma che ha avuto una bimba. In fuga dalla guerra partorisce a Sondonà la nuova vita di Anna. Non ha ancora ventenne, è arrivata questa signora ucraina nel veneziano dopo un lungo viaggio. Parto prematuro, ma la piccola Arianna sta bene. Covid, ripresa in Veneto. La fine della stretta andrebbe rimandata. Ne è convinto Giovanni Sebastiani, ricercatore dell'Istituto per le applicazioni del calcolo del CNR. Quadro compatibile e con una nuova mutazione. È importante invertire la tendenza subito, ma non è l'inizio della quinta ondata. Questa è il parere di questo matematico. Andiamo alle pagine che il Corriere delle Alpi dedica alla provincia di Belluno. Scivolano per il ghiaccio gravissime due donne sul grappa. Ruzzola lungo il pendio per un centinaio di metri. Caduta anche l'amica che tentava di raggiungerla. Soccorse con l'elicottero. E poi ci sono i colleghi dell'alpinista deceduto sabato sul Monte Cristallo che lo piangono. Ragazzo infaticabile, si faceva volere bene. Eccidio del Bosco delle Castagne. La memoria tra storia e attualità. Il Vescovo, il presente ci interpella. Rasera Berna, qui siamo diventati cittadini. Lampi, l'associazione dei partigiani. Non siamo venuti a far retorica, ma a raccogliere un testimone. La rappresaglia tedesca, poi l'uccisione di otto militari, portò a dieci impiccagioni che appunto sono state ieri ricordate al Bosco delle Castagne, nei pressi di Belluno. Energia di comunità. Ponte nelle Alpi fa da apripista per la svolta green. L'iniziativa del comune sarà presentata venerdì al pubblico. In Comerico si studia una green community per la valle. Bebettin, concedere le agevolazioni ai comuni montani, senza porre condizioni. Caro Benzina, con fartigianato, chiede un credito di imposta per aiutare le aziende che fanno molta fatica a causa appunto dell'aumento del prezzo. Feltre e busche. Un privato dice no al passaggio della pista ciclabile. A Ponte, oltre alla Passarella, c'è un'altra grana da risolvere. Amazon, speriamo che il comune trovi una soluzione. E poi anche sul Corriere delle Alpi inizia un'ampia sezione sportiva, che comincia con la notizia di René de Silvestro, una chiusura con il botto alle Paralimpiadi di Pechino. Dopo l'argento, il bronzo nello slalom speciale. Grande prova del Cadorino, terzo nella prima manche, sbaglia in avvio della seconda, però recupera e mantiene la posizione. René, siamo gente di montagna, abituati a non mollare mai. Spiace per l'uscita di Comerico, ma è stata una gara strana. Nell'ultima giornata le emozioni sono state davvero tantissime. Sventola la bandiera del sindaco Ghidina e di René de Silvestro. Passaggio di testimone verso Milano Cortina, 2026, con l'inno di Mameli, cantato da Arisa, nello stadio di Pechino. Cerimonia di chiusura, che si è aperta con la sfilata delle delegazioni, in particolare dei portabandieri. Il portabandiere dell'Italia era proprio René de Silvestro. E poi spazio agli altri sport che hanno caratterizzato la domenica bellunese, a cominciare dalla sconfitta della Dolomiti Bellunesi nel campionato di Serie D contro il Campo d'Arsego. E poi le cronache di tante altre formazioni bellunesi del calcio. A partire da quelle in promozione, il Limana Cavarzano stende lo Iulia e guida la classifica. 2-0 il successo contro la Iulia Sagittaria. E per la prima categoria, Longarone Alpine a 22 minuti e archiviata la pratica Cadore, battuto per 3-1. E ancora in promozione, il Fioribar passa a Caerano e insidia la Iulia Sagittaria. 2-0 la vittoria in trasferta del Fioribar. Seguono poi tante altre cronache. L'Alpago, per esempio, in prima categoria ha battuto per 1-0 il San Martino. Ma superiamo il calcio e andiamo alla pallavolo. Qui da registrare la sconfitta ieri sera della DRL Belluno in casa per 3-1 contro il Garlastico. Da Roll Logistics, terzo stop, Garlasco abbatte Rino Ceronti. Questo è il titolo del Corriere delle Alpi. Dopo un inizio d'applausi, il sestetto bellunese si arrende agli avversari. L'incasso devoluto alla Croce Rossa per l'Ucraina. E sempre per la pallavolo, il Limana femminile concede troppo e Limoco ne approfitta vincendo per 3-1. Passiamo al Rugby. Feltre passeggia sul Vicenza e lascia spazi ai più giovani. 113-0 il risultato finale. E ancora per il Rugby. Primo tempo di alto livello, poi il Belluno cala in intensità, ma batte il Montebelluna per 39-18. E per quanto riguarda ancora il Rebby, equilibrio e grande lotta, ma il 30 è più vicino all'Alpago. Va KO in trasferta per 20-3. Si chiude qui questa edizione della Rassegna Stampa. A tutti voi il più cordiale a risentirci. Grazie. Grazie.